Simone Gesi, hai partecipato a due mini transat, una è andata male e l'altra invece l'hai conclusa e c'è il tuo mini transat qui esposto al Salone Nautico di Genova, come mai? Ti dispiace dai, scherzo, ti dispiace? No, 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 siamo contentissimi Perché in realtà Ucina ha contattato il presidente del nostro circolo, di Mastro, perché mi sono tesserato con la Lega Navale di Follonica, dove anche Giancarlo Pedote e il Lugare di Sopri sono tesserati e il presidente, niente, con degli accordi, poi alla fine ci siamo provati da Puglio Ucina ci ha fatto portare la barca esposta e quindi con molto piacere spongo da Gadà, Spirito di Maremma, qua al Salone Senti, l'hai utilizzata due volte e questa volta, insomma, sta a secco Come mai? Ti dà un po' fastidio? Vorresti rifare una terza mini transat? Beh, diciamo che non mi dà fastidio perché comunque, anche se la prima transat è stata un ritiro di fatto le impostazioni per farla e per finirla c'era stata Purtroppo è ritiro in questo tipo di regate, non dovrebbe essere un preventivo, però purtroppo c'è stato Non mi dispiace averne fatte due, non mi dispiace che si è esposta qua a secco, queste barche sono qua, sta a secco, perché quando non navigano in Atalanta o nei delegati di Polizia stanno a secco, non stanno all'ormeggio con questi due peccoli Ucina Ok, la mini transat del prossimano non la farai? Cosa fai allora? No, allora intanto recupero il tempo investito nel transat lavorando e le famiglie, le moglie e due bambini e poi vado a fare il tifo per i miei amici Giancarlo, e quindi questo mi riempie di gioia e d'orgoglio e poi alla fine vado sulle banchine, andrò sulle banchine a dormire e a fare il tifo da tifoso molto particolare Va bene, grazie